Thomas Allegro, portiere della Tabacchiere Dattania, decisivo ai calci di rigore di questa finale, due rigori parati, insomma una bella partita. Una bella partita, sofferta, si erano un po' decimati, mancava un po' di gente, però ce l'abbiamo messa tutta, c'erano 3-4 ragazzotti che ci hanno dato una mano e alla fine andava bene. Per come si era messa, rischiavate di subire un po' il contraccolpo di questo pareggio subito alla fine, i rigori però sono come sempre una lotteria e siete stati più precisi. Sì, certo, ero fiducioso sui rigori e sono un mio punto forte, quindi ho avuto fiducia nei miei compagni, anche se quando abbiamo preso l'1-1 mancavano 5 minuti ho avuto paura anche che si prendesse il secondo gol, però siamo stati bravi e abbiamo portato a casa il risultato. Tra l'altro è un portiere che non solo ha parato due rigori ma neanche segnato uno. Sì, certo, mi piace tirare il rigore, ho sempre tirato e andava bene, dai.